Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 101-2017, lotto unico. In fabbricato ad uso commerciale di due piani fuori terra, piena proprietà di unità immobiliare catastalmente autonoma destinata a civile abitazione, con cantina al piano interrato. L'unità è attualmente destinata a zona giorno di più ampio appartamento, nella restante parte di proprietà di terzi e non in vendita. Sito in via Canova San Pieri 8, San Giovanni Lupatoto. Prezzo base, 104.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 ottobre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Eleonora Mazzon, telefono, 045 59 19 99, fax 045 800 47 02. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 106 2017, lotto 2. All'interno di fabbricato condominiale denominato condominio K dell'Albero, piena proprietà di appartamento, al grezzo, sito al piano primo con annessa mansarda al piano sottotetto. Piena proprietà di cantina e autorimessa singola site al piano interrato. Sito in via K dell'Albera 1 barra di Verona. Prezzo base, 132 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 3 ottobre 2018 alle ore 14.45. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Francesco Mafficini, 045 800 2226. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 106 2017, lotto 3. All'interno di fabbricato condominiale denominato condominio K dell'Albero, piena proprietà di appartamento, al grezzo, sito al piano primo con annessa mansarda al piano sottotetto. Piena proprietà di pertinenziale autorimessa doppia al piano interrato. Sito in via K dell'Albera 1 barra di Verona. Prezzo base, 147 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 3 ottobre 2018 alle ore 14 e 45. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Francesco Mafficini, 045 800 2226. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 106 2017, lotto 4. All'interno di fabbricato condominiale denominato condominio K dell'Albero, piena proprietà di appartamento, al grezzo, sito al piano primo con annessa mansarda al piano sottotetto. Piena proprietà di pertinenziale autorimessa doppia al piano interrato. Sito in via K dell'Albera 1 barra di, Verona. Prezzo base, 149 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 3 ottobre 2018 alle ore 14 e 45. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Francesco Mafficini, 045 800 2226. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 117 2017, lotto unico. Piena proprietà di abitazione eretta per due piani fuori terra. Piena proprietà di porzione di fabbricato rurale, in aderenza all'abitazione, composto da un portico al piano terra, fienile soprastante e ripostiglio laterale. Piena proprietà di appezzamento di terreno. Sito in via Bellini 67, Villa Bartolomea. Prezzo base, 68 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 3 ottobre 2018 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Valentina Benedetti, 045 8100 749. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 118 2017, lotto unico. Piena proprietà di abitazione singola, distribuita su due piani fuori terra. Piena proprietà di accessorio a catastoto come autorimessa con piccolo tratto di corte di pertinenza. Sito in piazza Don Galvani 3, Legnago. Prezzo base, 39 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 ottobre 2018 alle ore 15 e 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Gian Matteo Feinoglio, 045 8621 344. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 122 2017, lotto uno. Piena proprietà di porzione di rustico, da ristrutturare, disposto su tre livelli fuori terra, in zona collinare. Piena proprietà di terreni agricoli circostanti. Sito in località Leiselle, mezzane di sotto. Prezzo base, 169 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 26 settembre 2018 alle ore 15 e 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Giuliano Maffi, 0458036667. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 155 2014, lotto uno. Complesso alberghiero. Sito in via Villa Bella 11, San Bonifaccio. Prezzo base, 980 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 18 ottobre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Alessandro Biasioli, 045597817. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 155 2017, lotto uno. Piena proprietà di appartamento posto al piano primo con annessa cantina al piano interrato. Piena proprietà di pertinenziale autorimessa posta sempre al piano interrato. Sito in via Brancun 110, Nogara. Prezzo base, 57 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 ottobre 2018 alle ore 14.30. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Marco Bertaso, 0458302013. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 155 2017, lotto due. In complesso bifamiliare, piena proprietà di appartamento al piano terra con pertinenziali aree urbane destinate a giardino. Piena proprietà di pertinenziale autorimessa al piano terra, allo stato priva di autorizzazione edilizia. Sito in via Campagnon 18, Gazzo Veronese. Prezzo base, 72 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 ottobre 2018 alle ore 14.30. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Marco Bertaso, 0458302013. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 160 2017, lotto unico. Piena proprietà di abitazione in corso di ristrutturazione, disposta ai piani terra e primo con corte di pertinenza esclusiva. Piena proprietà di pertinenziale autorimessa al piano terra, collegata all'abitazione da porta interna, con soprastante pienile al piano primo e area rurale pertinenziale posta sul retro dei fabbricati. Quota di 1.6, un sesto, di piena proprietà di pertinenziale stradello di accesso. Sito in via rimembranza 25 barra, Isola della Scala. Prezzo base, 72.932 euro e 83 centesimi. Quota, piena proprietà, quota di 1.6 di piena proprietà. Vendita senza incanto. 14 novembre 2018 alle ore 14.30. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Roberta Zanoni, 0458050088. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 160 2017, lotto unico. Piena proprietà di abitazione in corso di ristrutturazione, disposta ai piani terra e primo con corte di pertinenza esclusiva. Piena proprietà di pertinenziale autorimessa al piano terra, collegata all'abitazione da porta interna, con soprastante fienile al piano primo e area rurale pertinenziale posta sul retro dei fabbricati. Quota di 1.6, un sesto, di piena proprietà di pertinenziale stradello di accesso. Sito in via rimembranza 25 barra, Isola della Scala. Prezzo base, 72.932 euro e 83 centesimi. Quota, piena proprietà, quota di 1.6 di piena proprietà. Vendita senza incanto. 14 novembre 2018 alle ore 14.30. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Roberta Zanoni, 0458050088. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 169 2017, lotto 1. Lotto 1, lotto A di Perizia, all'interno di un fabbricato in stato di abbandono, piena proprietà di appartamento al piano primo con annesse e cantine al piano interrato e soffitta al piano sottotetto. Sito in piazza De Gasperi 10, San Giovanni Lupatoto. Prezzo base, 50.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 ottobre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Paolo Malizia, 0455 95586. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 172.017, lotto 1. Edificio industriale adibito a deposito al piano terra con corte esclusiva di pertinenza. Sito in via Roma, bevi l'acqua. Prezzo base, 93.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Luca Sordo, telefono 04 42 60 34 00. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 172.017, lotto 2. Fabbricato adibito da autosalone ed officina al piano terra con corte esclusiva di pertinenza. Sito in via Roma e via San Pietro, bevi l'acqua. Prezzo base, 158.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Luca Sordo, telefono 04 42 60 34 00. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 171 2015, lotto 2. Piena proprietà di fabbricato industriale e costituito da zona di lavorazione, due celle frigorifere, due spogliatoi con bagno e ufficio al piano terra e da deposito al piano primo, oltre ad area urbana e terreno pertinenziale. Sito in via Valoni Remelli 62, Vareggio sul Mincio. Prezzo base, 186.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 3 ottobre 2018 alle ore 14.45. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Anna Tragni, 045 8035 655. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 186 2017, lotto unico. Piena proprietà di capannone artigianale al piano terra con accessorio locale cantina al piano interrato e pertinente corte esclusiva al piano terra. Sito in via Bassano 10, Bonavigo. Prezzo base, 90.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 ottobre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Giorgia Perbellini, 045 88035 655. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 187 2017, lotto unico. Abitazione al piano terra e primo con pertinente corte esclusiva al piano terra. Sito in viaggiare 7, Ronco all'Adige. Prezzo base, 16.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 ottobre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Massimiliano Dongili, tel. 045,8.010.733, fax. 045,8.035.844. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 190 2017, lotto unico. Appartamento al piano terra. Locale deposito al piano seminterrato. Sito in via Madonna 11, Pescantina. Prezzo base, 46.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 ottobre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Nicola Caltioni, 045,8.0.0.0.433. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 196 2017, lotto unico. Fabbricato unifamiliare e composto da abitazione al piano terra e primo con accessori all'abitazione e pertinente corte esclusiva. Garage al piano terra. Sito in via Boschirolle 11, Veronella. Prezzo base, 46.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 ottobre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Roberto Padovani, 0458031077. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 211 2017, lotto unico. Laboratorio artigianale costituito da più corpi tra loro adiacenti e comunicanti con pertinente aria scoperta. Sito in via del Marmo 650 barra A, dolce. Prezzo base, 495.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso porta nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Enrico Carifi, tel 0458.060.010, fax 0459.971.255. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 217 2016, lotto unico. Nello stabile identificato dalla lettera A del complesso condominiale denominato Residenza Marconi, piena proprietà di appartamento posto al piano terzo mansardato con annessa cantina al piano primo sottostrada. Piena proprietà di autorimessa al piano scantinato. Sito in via Guglielmo Marconi 32, San Giovanni Lupatoto. Prezzo base, 178.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 ottobre 2018 alle ore 14.30. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Ilaria Risegato, 045592196. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 222 2017, lotto unico. All'interno di edificio condominiale di sette piani fuori terra denominato Condominio Frugose, piena proprietà di abitazione al piano secondo e annessa soffitta al piano sesto. Sito in via Giuseppe Belluzzo 3, Verona. Prezzo base, 60.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 3 ottobre 2018 alle ore 15.30. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Tommaso Trevisiol, 045576818. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 233 2016, lotto 4. Terreno edificabili risultanti dalla documentazione in atti a destinazione artigianale. Sito in via Bevilacqua, Arcole. Prezzo base, 20.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 27 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Matteo Gervasini, 045995348. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 234 2017, lotto unico. Piena proprietà di appartamento al piano terzo. Piena proprietà di pertinenziale autorimessa al piano terra. Sito in via degli Emili 28, Isola della Scala. Prezzo base, 38.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 ottobre 2018 alle ore 15 e 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Pier Giorgio Bonini, 045595159. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 25 2017, lotto unico. All'interno di due cortine di fabbricati, piena proprietà di unità residenziale su due livelli fuori terra con locali accessori in corpo staccato. Piena proprietà di pertinenziale autorimessa con ripostiglio e piccola corte esclusiva. Sito in via Guglielmo Marconi 40, Casa Leone. Prezzo base, 34.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 ottobre 2018 alle ore 15 e 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Michele Sartor, 045594441. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 260 2017, lotto unico. Piena proprietà di abitazione schiera su tre livelli e corti esclusive. Piena proprietà di deposito esterno su due piani fuori terra. Sito in via Fiume 15, Veronella. Prezzo base, 43.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 26 settembre 2018 alle ore 15 e 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Gian Matteo Feinoglio, 0458621344. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 279 2016, lotto unico. Quota di 1-3, un terzo, di piena proprietà di abitazione unifamiliare ad un piano fuori terra. Quota di 1-3, un terzo, di piena proprietà di pertinenziale autorimessa al piano interrato. Sito in via Guglielmo Marconi 47, Cerro Veronese via Guglielmo Marconi 47, Cavaillon Veronese. Prezzo base, 15.000 euro. Quota, quota di 1-3, di piena proprietà. Vendita senza incanto. 3 ottobre 2018 alle ore 14 e 45. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Giovanni Merzari, 0456106187. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 27 2016, lotto 1. Piena proprietà di fabbricato rurale in fase di ristrutturazione distribuito su tre livelli con corte e terreni pertinenziali. Sito in strada vicinale del Cesiolo, Rivoli Veronese. Prezzo base, 350.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 3 ottobre 2018 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Augusto De Beni, 0458009450. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 285 2017, lotto unico. Abitazione dislocata sui piani terra e primo con soffitta al piano secondo e pertinente corte esclusiva al piano terra. Sito in via Modon 87 barra, al Baredo Dadige. Prezzo base, 59.850 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Francesca Piazza, 0457680256. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 309 2017, lotto unico. Piena proprietà di corte rurale consistente in complesso edilizio in stato di abbandono e parzialmente inagibile, con corti di pertinenza esclusiva, composto da casa padronale sviluppata su tre livelli con portico, chiesa adibita ad uso religioso, abitazione di tre piani fuori terra con cantina e locali accessori destinati a magazzino di attrezzi agricoli e stoccaggio del fieno, autorimessa al grezzo per veicoli agricoli e cabina di trasformazione per l'energia elettrica in separata corte. Sito in via Montimuso i19, Lavagno. Prezzo base, 255.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 27 settembre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Nicola Ottaviani, 045 594642. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 32016, lotto unico. Piena proprietà di parte degli immobili costituenti due palazzine allo stato grezzo disposte su sei piani fuori terra oltre ad un piano interrato comune per cantina e box auto. Sito in via Fabbrica, Tregnago. Prezzo base, 636.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 3 ottobre 2018 alle ore 14.45. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Paolo Franchetti, 0458 350588. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 323 2016, lotto unico. Piena proprietà di abitazione che occupa una parte della Villa Veneta denominata Villa Palazzoli, già Villa Castellani, dislocata sui piani terra, primo e secondo con cantina al piano seminterrato e pertinenziali corti esclusive al piano terra. Sussiste vincolo ai sensi della L1 giugno 1939 N1089. Sito in piazza Umberto I109, San Giovanni Lupatoto. Prezzo base, 844.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 ottobre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Giuliano Maffi, 0458036667. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 329 2017, lotto 1. Piena proprietà di abitazione. Quota indicata ai fini catastali di 417 3.000 di area urbana, cortile interno. Sito in via ospedale Vecchio 11, San Bonifaccio. Prezzo base, 95.000 euro. Quota, piena proprietà quota di 417 3.000. Vendita senza incanto. 18 ottobre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Gloria Zanca, telefono 045 800 42 74. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 334 2017, lotto unico. Piena proprietà di abitazione su un piano fuoriterra e piano interrato. Garage pertinenziale area scoperta. Sito in via Zucche 19 barra A, Sorga. Prezzo base, 285.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 ottobre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Rinaldo Sartori, 045 57 68 18. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 339 2015, lotto unico. Piena proprietà di casa unifamiliare disposta su due piani fuoriterra. Piena proprietà di corte di pertinenza esclusiva. Sito in via Chiavichetta 7, Albaredo Dadige via Chiavichetta, Albaredo Dadige. Prezzo base, 230.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 26 settembre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Loretta Micheloni, 045 800 4151. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 346 2016, lotto unico. Abitazione al piano terra e primo con locali accessori allo stato rustico. Due autorimesse al piano terra. Sito in via Slavacchio 32, Legnago. Prezzo base, 81.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 ottobre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Paolo Malizia, 045 59 55 86. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 349 2015, lotto unico. Abitazione dislocata sui piani terra e primo con ripostiglio al piano terra. Garage e corte esclusiva al piano terra. Piccolo appezzamento di terreno agricolo. Sito in via Case 408, Salizzole. Prezzo base, 71.500 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 ottobre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Cristina Caloi, 045 89 48 375. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 349 2017, lotto unico. Piena proprietà di capannone con area pertinenziale. Sito in viale dell'artigianato 22, mozzecane. Prezzo base, 158.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 ottobre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Giulia Volio, 045 80 5 0 0 8 8. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 352 2017, lotto unico. Piena proprietà di appartamento al piano primo. Piena proprietà di cantina e box auto coperto siti al piano seminterrato. Sito in vicolo Canaletto 4, Casa Leone. Prezzo base, 78.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 24 ottobre 2018 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Giuliano Maffi, 045 80 36667. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 35 2014, lotto 2. Piena proprietà di abitazione al piano primo e secondo, composta da soggiorno, due bagni al piano terra, tre camere evano scala, oltre a locale sottotetto non abitabile. Piena proprietà di due posti auto scoperti al piano terra e garage al piano scantinato. Sito in via Don Scolari 8, Cologno Lae Colli. Prezzo base, 87.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 26 settembre 2018 alle ore 15 e 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Andrea Parolini, 045 80 14384. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 35 2014, lotto 2. Piena proprietà di abitazione al piano primo e secondo, composta da soggiorno, due bagni al piano terra, tre camere evano scala, oltre a locale sottotetto non abitabile. Piena proprietà di due posti auto scoperti al piano terra e garage al piano scantinato. Sito in via Don Scolari 8, Cologno Lae Colli. Prezzo base, 87.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 26 settembre 2018 alle ore 15 e 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Andrea Parolini, 045 80 14384. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 365 2012, lotto unico. Lotto unico, lotti 1 e 3 di perizia, piena proprietà di abitazione bifamiliare e costituita da due appartamenti di cui uno al piano rialzato e uno al piano seminterrato, composta da ingresso, cucina, soggiorno, tre camere, due poggioli, bagno e da tre vani accessori, FG 17 Map 507 Sub 1 categoria barra 2, FG 17 Map 507 Sub 3 categoria barra 4. Lotto unico, lotti 1 e 3 di perizia, piena proprietà di autorimessa al piano interrato, oltre ad area urbana di accesso al piano interrato di catastali 132 metri quadrati e area urbana di catastali 53 metri quadrati, costituente in parte strada di accesso alla lottizzazione residenziale di iniziativa privata Alpone, parte adibita a giardino di abitazione, parte a strada di accesso. Sito in via Alpone 2, Ronca. Prezzo base, 241 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 24 ottobre 2018 alle ore 14 e 30. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Francesco Mafficini, 0458002226. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 365 2017, lotto unico. Piena proprietà di appartamento Alpiano rialzato costituito da ingresso, cucina, due camere, bagno e ripostiglio con annessa cantina Alpiano scantinato. Sito in via Unità d'Italia 274, Verona. Prezzo base, 59 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 3 ottobre 2018 alle ore 14 e 45. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Giuliano Maffi, 0458036667. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 367 2017, lotto unico. Piena proprietà di abitazione indipendente su due piani fuori terra oltre ad area di insistenza e pertinenza e cortile esclusivo. Piena proprietà di pertinenziali autorimessa e ripostiglio siti al piano terra di corpo di fabbrica poco discosto. Sito in via Pistore 39, Sanguinetto. Prezzo base, 155 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 ottobre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Matteo Residori, 0454937521. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 369 2017, lotto unico. Nella zona artigianale di Settimo di Pescantina, piena proprietà di edificio industriale con accessori, ivi compresa l'area di insistenza e pertinenza. Sito in via Alessandro Volta 14, Pescantina. Prezzo base, 1 milione 190 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 ottobre 2018 alle ore 14.30. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Marco Trevisani, 0458012535. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 36 2017, lotto unico. Al piano interrato del condominio 3T piena proprietà di magazzino aventi accesso da scivolo a carraio in via Pezze. Sito in via Berengario 30, Cavaillon Veronese. Prezzo base, 73 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 19 settembre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Giovanni Marino, 0458035655. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 383 2016, lotto unico. Appartamento al piano primo. Posto autoscoperto in area comune recintata. Sito in via Tormine 47, Isola della Scala. Prezzo base, 52 mila 500 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 ottobre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Francesco Mafficini, 0458002226. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 383 2017, lotto unico. Piena proprietà di casa di abitazione, di antica origine, disposta su due piani fuori terra, con pertinenziale autorimessa, deposito in corpo separato, corte esclusiva e terreno di pertinenza, il tutto bisognevole di lavori di ristrutturazione. Sito in via Spiadi 12, Cologno Lae Colli. Prezzo base, 42 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 ottobre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Gian Matteo Feinoglio, 0458621344. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 385 2017, lotto unico. Piena proprietà di appartamento al piano primo. Sito in via Roma 38, San Mauro di Saline. Prezzo base, 45 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 ottobre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Verona IVG, 0458621344. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 386 2016, lotto unico. Piena proprietà di appartamento al piano terra in fabbricato plurifamiliare di due piani fuori terra composto da, soggiorno, cottura, camera da letto matrimoniale, disimpegno e bagno con aria scoperta esclusiva. Piena proprietà di pertinenziale garage. Sito in via San Lorenzo, suave. Prezzo base, 115 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 25 settembre 2018 alle ore 16. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Alessia Pasquato, 0458037182. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 395 2017, lotto unico. Abitazione indipendente al piano terra e primo con corte esclusiva al piano terra. Pertinenti annessi rustici. Sito in via Marola 3, Villa Bartolomea. Prezzo base, 150 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Luca Sordo, telefono 04 42 60 34 00. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 408 2018, lotto unico. In comune di Buttapietra, VR, frazione Marchesino, con accesso sia da via Monte Adamello che da via Montebianco, piena proprietà di terreni edificabili di superficie catastale pari a complessivi MQ 4083. Sito in, Buttapietra. Prezzo base, 340 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 ottobre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Nicola Ruberto, 045 59 0800. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 415 2017, lotto 2. Piena proprietà di capannone con annessi servizi e locali tecnici, IVI compresa l'area di insistenza e pertinenza del fabbricato. Sito in località Cheison, Rivoli Veronese. Prezzo base, 678 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 3 ottobre 2018 alle ore 15.30. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Giuliano Maffi, 045 80 36667. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 420 2015, lotto 2. Unità unifamiliare su due piani fuori terra con corte di pertinenza. Sito in viale Strauno, Albaredo Dadige. Prezzo base, 20 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 27 settembre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Laura Lorenzi, 045 800 9791. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 420 2016, lotto unico. Piena proprietà di fabbricato in corso di costruzione disposto ai piani scantinato, terra, primo e secondo. Sito in via Molinazzo, Arcole. Prezzo base, 124 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 ottobre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Roberta Zanoni, 045 800 500 88. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 433 2015, lotto 3. Piena proprietà di porzione di fabbricato composto da vano deposito al piano interrato, negozio al piano terra e magazzino al piano terzo e da appartamento al piano secondo, oltre a deposito al piano sottotetto. Sito in via Paride da Cerea 57, Cerea. Prezzo base, 343 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 3 ottobre 2018 alle ore 15.30. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Valeria Spada, 045 59 0548. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 435 2017, lotto unico. Porzione di bifamiliare composta da villino. Autorimessa. Sito in via Casara, Villa Bartolomea. Prezzo base, 165 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 27 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Nicola Caltioni, 045 800 433. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 438 2016, lotto uno. Quota di uno due, un mezzo, di piena proprietà di appartamento al piano terzo con annessa cantina al secondo piano interrato. Quota di uno due, un mezzo, di piena proprietà di pertinenziale posto auto al primo piano interrato. Sito in via Tiziano 7, Verona. Prezzo base, 32 mila euro. Quota, quota di uno due, di piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 ottobre 2018 alle ore 15 e 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Maurizio Ascione Ciccarelli, 0458031082. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 438 2017, lotto unico. Piena proprietà di porzione di fabbricato in linea di tre piani fuori terra con tre locali ad uso soffitta al piano sottotetto. Sito in via Vittorio Veneto 53, Monteforte d'Alpone. Prezzo base, 75 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 27 settembre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Roberta Zanoni, 0458050088. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 454 2014, lotto uno. Appartamento al piano primo e secondo sottotetto. Sospesa. Autorimessa al piano scantinato. Sito in frazione Lugagnano, via Mancalacqua 38, Sona. Prezzo base, 142 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Paolo Malizia, 0455 95586. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 454 2014, lotto due. Appartamento al piano primo e secondo sottotetto. Sospesa. Autorimessa al piano scantinato. Sito in frazione Lugagnano, via Mancalacqua 38, Sona. Prezzo base, 126 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Paolo Malizia, 0455 95586. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 454 2014, lotto tre. Autorimessa al piano scantinato. Sito in frazione Lugagnano, via Mancalacqua 38, Sona. Prezzo base, 13 mila 500 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Paolo Malizia, 0455 95586. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 462017, lotto uno. Infabbricato ristrutturato di sei unità abitative, piena proprietà di appartamento al piano primo. Piena proprietà di pertinenziale box doppio al piano interrato. Sito in via Venturelli 31, vareggio sul Mincio. Prezzo base, 95 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 ottobre 2018 alle ore 15 e 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Giovanni Marino, 0458035655. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 462017, lotto due. Infabbricato ristrutturato di sei unità abitative, piena proprietà di appartamento al piano secondo, sottotetto. Piena proprietà di pertinenziale box singolo al piano interrato. Sito in via Venturelli 31, vareggio sul Mincio. Prezzo base, 66 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 ottobre 2018 alle ore 15 e 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Giovanni Marino, 0458035655. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 471 2016, lotto quattro. Nuda proprietà di terreno destinato a bosco. Sito in strada provinciale 12, Negrar. Prezzo base, 1300 euro. Quota, nuda proprietà. Vendita senza incanto. 4 ottobre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Elisa Travenzoli, tel 045,596661, fax 045,8.048.597. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 472 2017, lotto unico. Appartamento al piano primo con accessorio vano cantina al piano scantinato. Posto auto al piano scantinato. Sito in via Fosserde a Tineotto, Bovolone. Prezzo base, 50.650 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Alessandro Biasioli, 045,597,817. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 474 2017, lotto unico. Piena proprietà di porzione di fabbricato adibito a magazzino adibito a deposito con autorimessa e due corti di pertinenza esclusiva. Sito in via Orimbelle 1, Ronco all'Adige. Prezzo base, 108.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 ottobre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Erminia Contini, 0458104669. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 47 2017, lotto unico. Infabbricato di due piani fuori terra, piena proprietà di appartamento al piano terra e primo, con due corti pertinenziali esclusive per complessivi MQ 432 circa, avente come accessorio al piano terra un ripostiglio. Autorimessa. Sito in via sucche 23, sorga. Prezzo base, 33.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 ottobre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Gian Matteo Feinoglio, 0458621344. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 486 2017, lotto unico. Piena proprietà di negozio al piano terra con accessorio vano cantina al piano interrato. Sito in via Forte Laghetto 11 barra, Peschiera del Garda. Prezzo base, 101.500 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 ottobre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Roberto Padovani, 0458031077. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 488 2017, lotto unico. Infabbricato in stile Liberty risalente ai primi del Novecento e denominato Casa del Popolo piena proprietà di abitazione unifamiliare sviluppata sui piani terra e primo con annessa corte di pertinenza. Sito in via delle logge 15, Verona. Prezzo base, 1.164.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 3 ottobre 2018 alle ore 15.30. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Nicola Ottaviani, 045594642. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 491 2016, lotto 4. Due terreni, residui stradali e di argine, situati lungo il canale Dugale a lato della strada provinciale 41. Sito in località Carezze, terrazzo. Prezzo base, 500 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 27 settembre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Marco Crema, 0456112089. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 501 2016, lotto unico. In edificio in linea a due piani fuori terra, piena proprietà di abitazione suddivisa in due parti disposta ai piani terra e primo con ingresso comune e annessa corte di pertinenza esclusiva. Piena proprietà di due pertinenziali autorimesse. Sito in via OP5, Casa Leone. Prezzo base, 50.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 26 settembre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Augusto De Beni, 0458 009 450501 2016, lotto unico. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 507 2016, lotto unico. Appartamento e due aree urbane di pertinenza. Accessorio autorimessa. Sito in via Vittorio Veneto 34, Sorga. Prezzo base, 85.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 18 ottobre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Anna Tragni, 0458 035655. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 508 2015, lotto unico. Piena proprietà di capannone artigianale con tettoia e terreno di pertinenza e accesso al fabbricato. Sito in via Firenze, Cerea. Prezzo base, 75.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 3 ottobre 2018 alle ore 14.45. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Vincenzo Bonanno, 0458 006 861. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 50 2015, lotto unico. Villa singola su due piani fuori terra, con parco privato e rustico di pertinenza. Deposito sotto tetto e cantina al piano interrato. Sito in via Legnaghi Corradini 1, Cazzano di Tramigna. Prezzo base, 409.808 euro e 51 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 18 ottobre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Claudio Masotto, telefono, 045 830 01 89, fax 045 511 25 76. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 516 2014, lotto 26. Autorimessa al primo piano interrato. Sito in via Lago di Garda, San Bonifaccio. Prezzo base, 2700 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 ottobre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Nicola Ottaviani, 045 59 4642. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 524 2016, lotto unico. Porzione di fabbricato a cortina su tre piani fuori terra. Terreno agricolo adibito a bosco sito nelle immediate vicinanze del suddetto fabbricato. Sito in via Croso 19, Fumane. Prezzo base, 35.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 27 settembre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Anna Tragni, 045 8035 655. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 539 2016, lotto uno. Piena proprietà di compendio immobiliare costituito da capannone, FG32 map 238 sub 1 categoria D barra 1, abitazione su due piani fuori terra, FG32 map 238 sub 2 categoria A barra 2, e due autorimesse, FG32 map 238 sub 3 e 4 categorie C barra 6, Ivi compresa l'area di insistenza e pertinenza. Sito in via Sant'Ambrogio 17, Ronco all'Adige. Prezzo base, 567 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 ottobre 2018 alle ore 14 e 30. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Diletta Rossella Saretto, 0458795598. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 542.017, plot unico. Infabbricato condominiale Margherita di due piani fuori terra, piena proprietà di unità residenziale al piano terra e primo, con corte di pertinenza esclusiva. Accessori cantina e autorimessa al piano interrato. Sito in via Pontida 56, Oppeano. Prezzo base, 114 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 ottobre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Massimo Caldana, tel 045,8.031.737, fax 04-58-01-49-34. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 554-2014, lotto 2. Villa padronale denominata Villa Pompei dislocata sui piani terra, primo, secondo e fabbricato agricolo con corte esclusiva di pertinenza. Sito in via Garbo, Legnago. Prezzo base, 150 mila euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Marzia Vinco d'Assesso, 045-597-282. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 571-2016, lotto unico. Piena proprietà di compendio immobiliare costituito da, appartamento ai piani terra e rialzato con annessi locali accessori al piano scantinato, appartamento al piano terra, appartamento al piano secondo, sottotetto, autorimessa al piano interrato, pensilina metallica, area di sedime di deposito demolito, ma ancora accatastato, area di insistenza e pertinenza dei fabbricati, limitrofi appezzamenti di terreno. Sito incontrata Fornari, Villabella 36, San Bonifaccio. Prezzo base, 196.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 26 settembre 2018 alle ore 15 e 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Federica Caporossi, 045592196. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 571 2016, lotto unico. Piena proprietà di compendio immobiliare costituito da, appartamento ai piani terra e rialzato con annessi locali accessori al piano scantinato, appartamento al piano terra, appartamento al piano secondo, sottotetto, autorimessa al piano interrato, pensilina metallica, area di sedime di deposito demolito, ma ancora accatastato, area di insistenza e pertinenza dei fabbricati, limitrofi appezzamenti di terreno. Sito incontrata Fornari, Villabella 36, San Bonifaccio. Prezzo base, 196.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 26 settembre 2018 alle ore 15 e 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Federica Caporossi, 045-592-196. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 573-2016, lotto 2. Piena proprietà di terreno risultante dalla documentazione in atti parzialmente edificabile. Sito in, Caprino Veronese. Prezzo base, 47.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 ottobre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Guido tra Bucchi, 045-916-055. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 607-2016, lotto 1. All'interno di un edificio 3, familiare, piena proprietà di appartamento al piano primo con annessi locali cantina, bagno e porticato al piano terra. Sito in via Caldana 26, la Zise. Prezzo base, 254.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 26 settembre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Marco Bulgarelli, 045-8030-212. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 607-2016, lotto 2. Piena proprietà di magazzino destinato a deposito attrezzi e macchinari agricoli, sito al piano terra. Sito in via Caldana 26, la Zise. Prezzo base, 93.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 26 settembre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Marco Bulgarelli, 045-8030-212. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 607-2016, lotto 3. All'interno di un edificio 3, familiare, piena proprietà di appartamento al piano primo con porticato di accesso al piano terra. Sito in via Caldana 26, la Zise. Prezzo base, 174.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 26 settembre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Marco Bulgarelli, 045-8030-212. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 622-2017, lotto unico. Aspettativa del diritto di usufrutto condizionato alla premorienza dell'attuale usufruttuario, su appartamento ad uso residenziale al piano rialzato di un condominio denominato Condominio Itigli. L'appartamento è composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere, due bagni, disimpegno e veranda chiusa. Aspettativa del diritto di usufrutto condizionato alla premorienza dell'attuale usufruttuario, su pertinenziale autorimessa. Sito in viale Ungheria 42, Isola della Scala. Prezzo base, 13.333 euro. Quota, usufrutto. Vendita senza incanto. 25 settembre 2018 alle ore 16. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Gian Matteo Feinoglio, 0458621344. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 635 2017, lotto unico. Porzione di casa a schiera di due piani fuori terra con giardino di pertinenza. Cantina, lavanderia e autorimessa al piano seminterrato. Sito in via Vincenzo Monti 25, Bovolone. Prezzo base, 231.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 18 ottobre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Stefano Bajetta, 0442225255. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 64 2017, lotto unico. Laboratorio al piano terra con pertinente corte esclusiva. Sito in via 20 settembre 35, Monteforte d'Alpone. Prezzo base, 193.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Anna Tragni, 0458035655. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 682 2016, lotto due. Appartamento al piano terra con accessori, due cantine al piano seminterrato e soffitta al piano primo. Autorimessa al piano seminterrato. Magazzino al piano seminterrato. Sito in via dei ciliegi 36, Bosco Chiesa Nuova. Prezzo base, 165.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 ottobre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Paolo Malizia, 045595586. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 687 2016, lotto uno. Piena proprietà di terreno risultanti dalla documentazione in atti a destinazione agricola. Quota di 418 di terreni risultanti dalla documentazione in atti a destinazione agricola. Sito in via Don Giovanni Veronese, erbe. Prezzo base, 45.000 euro. Quota, piena proprietà. Quota di 418. Vendita senza incanto. 27 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Federico Morgante, 044224057. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 687 2016, lotto due. Piena proprietà di terreno risultanti dalla documentazione in atti con capacità edificatoria. Sito in via Canesella, erbe. Prezzo base, 173.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 27 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Federico Morgante, 044224057. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 689 2015, lotto uno. Terreno. Sito in Legnago, Legnago. Prezzo base, 28.500 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 27 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Alessandro D'Alessandris, 0458014384. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 689 2015, lotto due. Terreno. Sito in Legnago, Legnago. Prezzo base, 42.500 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 27 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Alessandro D'Alessandris, 0458014384. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 704 2016, lotto uno. Piena proprietà di appezzamenti di terreno e di capannone ad uso agricolo con tettoia. Sito in, valeggio sul mincio. Prezzo base, 100.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 26 settembre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Pier Giorgio Bonini, 045595159. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 704 2016, lotto due. Piena proprietà di appezzamenti di terreno. Sito in, valeggio sul mincio. Prezzo base, 65.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 26 settembre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Pier Giorgio Bonini, 045595159. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 705 2016, lotto uno. Piena proprietà di terreni agricoli. Sito in, valeggio sul mincio. Prezzo base, 40.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 26 settembre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Pier Giorgio Bonini, 045595159. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 705 2016, lotto due. Piena proprietà di terreni agricoli. Sito in, valeggio sul mincio. Prezzo base, 100.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 26 settembre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Pier Giorgio Bonini, 045595159. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 710 2017, lotto unico. Piena proprietà di abitazione a cortina su due piani fuori terra con annessi vani accessori e corte esclusiva. Piena proprietà di autorimessa pertinenziale al piano terra di separato corpo di fabbrica. Sito in via Lago Maggiore 9, butta pietra. Prezzo base, 80.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 26 settembre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Gian Matteo Feinoglio, 0458621344. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 714 2016, lotto unico. Negozio al piano terra. Sito in travia Palazzina e Villaggio Sant'Emilio, Verona. Prezzo base, 10.500 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 4 ottobre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Verona IVG, 0458621344. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 717 2012, lotto unico. Piena proprietà di porzione di fabbricato costituita da appartamento, al piano terra e primo. Piena proprietà di due porzioni di area cortiva di pertinenza. Sito in via Guglielmo Marconi 48, erbe. Prezzo base, 45.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 26 settembre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Gian Matteo Feinoglio, 0458621344. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 71 2017, lotto a. Nel complesso residenziale due lune dotato di piscina condominiale, piena proprietà di appartamento al piano terra e primo sottotetto. Autorimessa al piano interrato per quattro posti auto. Sito in via Adige 1, Peschiera del Garda. Prezzo base, 185.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 11 ottobre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Paolo Malizia, 045-595-586. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 741 2016, lotto 2. Fabbricato con labente di due piani fuori terra adibito a stalla e fienile con annessa aria pertinenziale. 5 appezzamenti di terreno della superficie complessiva di A24 Febbraio 2028 destinati a funzione agricolo, produttiva e coltivati a soia. Sito in via Castelletto 12, Pressana. Prezzo base, 57.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 27 settembre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Caterina Tuppini, 0458034622. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 742 2016, lotto unico. Abitazione al piano terra e primo con fabbricato accessorio al piano terra. Capannone artigianale al piano terra. Garage al piano terra con pertinente corte esclusiva. Porzioni di terreno. Sito in via Oca in Crocio via San Sebastiano, Pressana. Prezzo base, 126.600 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Federica Micheli, 0458035655. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 753 2016, lotto unico. Piena proprietà di appartamento al piano terzo con annessa cantina al piano seminterrato. Sito in piazzale Vittorio Veneto 4, Cologna Veneta. Prezzo base, 33.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 3 ottobre 2018 alle ore 15.30. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Giorgia Stallo, 0458303031. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 776 2012, lotto 4. Intero diritto di usufrutto a favore di soggetto nato il 10 giugno 1944 di autorimessa al piano primo interrato. Sito in via Giuseppe Sorsi 7, Verona. Prezzo base, 2.600 euro. Quota, intero diritto di usufrutto a favore di soggetto nato il 10 giugno 1944. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Marzia Vinco da Sesso, 045597282. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 776 2016, lotto unico. Compendio immobiliare composto da, abitazione su due piani fuori terra, terra e primo, e vano ad uso garage alpi terra con annesso ripostiglio alpi primo garage alpi terra con annesso ripostiglio alpi primo, garage alpi terra e ripostiglio con servizio alpi terra, con corte di pertinenza, area urbana DMQ 170, appezzamento di terreno DMQ 521. Sito in via Senate 4, Legnago. Prezzo base, 45.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 25 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Roberto Padovani, 0458031077. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 777-2015, lotto 1. Piena proprietà di edificio residenziale di due piani fuori terra con annessa piccola corte di pertinenza. Sito in via Furatta 6, Legnago. Prezzo base, 150.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 26 settembre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Sara Salaorni, 0458006277. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 777-2015, lotto 2. Quota di 1-2, un mezzo, di piena proprietà di terreno agricolo, attualmente destinato in grande parte a Prato e sul quale sorge un deposito attrezzi abusivo in lamiera metallica. Sito in via Pisani Righette, Legnago. Prezzo base, 3.000 euro. Quota, quota di 1-2 di piena proprietà. Vendita senza incanto. 26 settembre 2018 alle ore 15.15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Sara Salaorni, 0458006277. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 783-2015, lotto 2. Lotto 2, lotto B di Perizia, all'interno del fabbricato condominiale denominato C27 Condominio Rossini proprietà di appartamento al piano secondo. La proprietà dei predetti immobili è gravata da diritto di abitazione a favore di persona nata il 17 aprile 1949, giusto atto del 16 aprile 1999 N1136 Rep. Notaio Claudio Berlini, trascritto a Verona in data 27 aprile 1999 NN13882-9197. Lotto 2, lotto B di Perizia, proprietà di garage al piano seminterrato. La proprietà dei predetti immobili è gravata da diritto di abitazione a favore di persona nata il 17 aprile 1949, giusto atto del 16 aprile 1999 N1136 Rep. Notaio Claudio Berlini, trascritto a Verona in data 27 aprile 1999 NN13882-9197. Sito in via Montegrappa 25, Cerea. Prezzo base, 18.000 euro. Quota, proprietà. Vendita senza incanto. 3 ottobre 2018 alle ore 15 e 30. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Marianna Mancassola, 0458766312. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 79 2013, lotto unico. Piena proprietà di abitazione su due livelli con due corti esclusive poste a nord e a sud dell'unità abitativa, composta da ingresso, cucina, sale e bagno al piano terra, due camere e corridoio al piano primo. Sito in località Sant'Agata 4, Nogara. Prezzo base, 14.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 ottobre 2018 alle ore 15 e 15. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Marzia Vinco da Sesso, 045597282. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 818 2013, lotto 1. Piena proprietà di abitazione al piano rialzato con annessa cantina al piano seminterrato. Sito in via Vallona 15, Isola della Scala. Prezzo base, 50.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 3 ottobre 2018 alle ore 14 e 45. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Tommaso Nicoli, 045591647. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 818 2013, lotto 3. Piena proprietà di fabbricato collabente e fatiscente su due piani fuori terra con annessi un corpo di fabbrica separato ad uso ripostiglio con tettoia, ed aria esterna esclusiva. Sito in via Vallona SNC, Isola della Scala. Prezzo base, 23.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 3 ottobre 2018 alle ore 14 e 45. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Tommaso Nicoli, 045591647. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 822 2016, lotto 1. Quattro autorimesse al secondo piano interrato. Sito in via 20 settembre, San Martino Buonalbergo. Prezzo base, 9.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Nicola Ottaviani, 045594642. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 822 2016, lotto 10. Due posti auto esterni realizzati nell'area di manovra al primo piano interrato. Sito in via 20 settembre, San Martino Buonalbergo. Prezzo base, 1.500 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Nicola Ottaviani, 045594642. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 822 2016, lotto 11. Posti auto esterni realizzati nell'area di manovra al primo piano interrato. Sito in via 20 settembre, San Martino Buonalbergo. Prezzo base, 1.500 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Nicola Ottaviani, 045594642. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 822 2016, lotto 2. Cantina deposito al primo piano interrato. Due autorimesse al secondo piano interrato. Sito in via 20 settembre, San Martino Buonalbergo. Prezzo base, 4.500 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Nicola Ottaviani, 045594642. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 822 2016, lotto 3. Due autorimesse al secondo piano interrato. Sito in via 20 settembre, San Martino Buonalbergo. Prezzo base, 4.200 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Nicola Ottaviani, 045594642. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 822 2016, lotto 4. Due autorimesse al secondo piano interrato. Sito in via 20 settembre, San Martino Buonalbergo. Prezzo base, 4.200 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Nicola Ottaviani, 045594642. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 822 2016, lotto 5. Due autorimesse al secondo piano interrato. Sito in via 20 settembre, San Martino Buonalbergo. Prezzo base, 4.200 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Nicola Ottaviani, 045594642. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 822 2016, lotto 6. Due autorimesse al secondo piano interrato. Sito in via 20 settembre, San Martino Buonalbergo. Prezzo base, 4.200 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Nicola Ottaviani, 045594642. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 822 2016, lotto 7. Due autorimesse al secondo piano interrato. Sito in via 20 settembre, San Martino Buonalbergo. Prezzo base, 4.400 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Nicola Ottaviani, 045594642. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 822 2016, lotto 8. Due autorimesse al secondo piano interrato. Sito in via 20 settembre, San Martino Buonalbergo. Prezzo base, 6.600 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Nicola Ottaviani, 045594642. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 822 2016, lotto 9. Deposito al primo piano interrato. Sito in via 20 settembre, San Martino Buonalbergo. Prezzo base, 1.900 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 20 settembre 2018 alle ore 14. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Nicola Ottaviani, 045594642. Tribunale di Verona, procedura esecutiva numero 828 2016, lotto unico. Piena proprietà di casa a schiera su due piani fuori terra con locali accessori, oltre a corte esclusiva. Piena proprietà di pertinenziale autorimessa con servizi, posti in corpo di fabbrica staccato. Sito in via Dante Alighieri 78, Trevenzuolo. Prezzo base, 30.000 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 10 ottobre 2018 alle ore 14 e 30. Luogo della vendita, Camera di commercio di Verona, in corso Porta Nuova numero 96, con ingresso da Circonvallazione Alfredo Oriani numero 2 barra. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Avvocato. Gian Matteo Fenoglio, 0458621344. Grazie per la visione.